I dati non sono certo incoraggianti, ma neanche tali da creare facili allarmismi. Le segnalazioni di assuntori di droga sono oltre 600, dal 1 gennaio al 30 settembre scorso. Il 7% è costituito da minori, tra i 14 e i 16 anni. Un fenomeno che va tenuto sotto controllo, ha spiegato il prefetto della provincia di Barletta, Andrea Trani, Clara Minerva, al margine del Comitato per l'Ordine Pubblico, in cui ha presentato l'iniziativa del Governo di istituire un numero verde per segnalare episodi di spaccio davanti alle scuole e anche di bullismo all'interno degli istituti scolastici. 43-002, basta un sms con la precisazione della provincia, saranno poi le questure dei capoluoghi a smistare i messaggi ai commissariati di polizia o alle caserme dei carabinieri per il pronto intervento. Non intasare server o centralinie, l'appello delle forze dell'Ordine, il messaggio deve essere essenziale e circoscritto, serve per arginare un problema che sul territorio merita attenzione, nonostante il lavoro di prevenzione da parte di uomini e donne in divisa. Le prefetture provvederanno a raccogliere i dati e inviarli al Ministero dell'Interno, che dovrà poi formare un gruppo di studio, diverso per territorio, per cercare di combattere il fenomeno. Nella provincia di Barletta-Andreatrani, a concluso il prefetto, continuiamo a registrare episodi di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, più limitato per fortuna quello del bullismo tra i giovani. L'invito a denunciare è stato rivolto anche a presidi ed insegnanti. L'invito a denunciare è stato rivolto anche a presidi edificare i dati e i dati. L'invito a denunciare è stato rivolto anche a presidi edificare i dati,